Per quanto riguarda il territorio sono anni, decenni direi, che si praticamente aspetta sempre abbattimento del lungomuro. Tutte le ordinanze del sindaco, chi più chi meno, prevedono questo, abbattimento del lungomuro, liberi accessi, ma non succede niente. A livello nazionale qualcosa si intravede, ma la resistenza è veramente tanta, perché il governo Draghi se non avesse la santa Europa, dico santa in maniera laica, che dà la grande pressione per liberalizzare le concessioni e avere un concetto di liberalismo non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Con mancati introidi di diecine e diecine di miliardi, di mancati incassi, perché le concessioni fatte a 1,28 euro a metro quadro, sai che cosa vuol dire una presa in cibo? Sarebbe meglio darglielo gratis, se farebbe prima, se farebbe prima.